In questi tre mesi di chiacchiere, di trattative e di episodi anche sconcertanti, nella vicenda del Governo nazionale salvo due cose. Mi chiamano al caffone i grandi e i bambini, lavoro dentro i grandi magazzini, modestamente rubo da quando sono nato, son go terrore dei supermercati, al caffone nessuno è meglio di te, quando ti metti massi in dolcina, lavoro sempre solo, mi aggiro tra i reparti, cassiera, arabo, poiché non distrarti, non so se ti ricordi, ma io a San Valentino, faccio il tastaggio e baccio per un cino, al caffone sei meglio di Silvan, tu fai spari i bustini di Kslan. Un giorno d'acco in, che c'era molta polla, ho preso sei mutande senza molla, ma non mi sono perso, di fronte c'è la standa, e il maggio parte è molto più mutande, al caffone c'è la polizia, nascondi quel pacchetto di Golia, ma sto brutto accadde, quando garete in der, e si schiatta in a buste e ci poster, mi fecero una visita, una perquisizione, tenevo due salami nel cazzone, al caffone, c'è chi vince, c'è chi perde, e tu fai ci sta una figura in merda.